Drammatico della prima falciata Sì, è il momento che vorrei andare via Proprio a mo' della contadina, ecco, e qui il pubblico rumoreggerà perché non... Che te lo dico a fare? Quanto sei brava! L'auto assist! Che te lo dico a fare? Ecco, benissimo E adesso chiamiamo le ragazze della squadra di Claudio Mendola Perfetto, care ragazze, ora è venuto un momento difficilissimo, no? Perché intanto ho la busta, vero? Mustache hai la busta? Ecco qui, mustache, ecco, per riconoscerlo Qui c'è la busta, quindi il pubblico ha votato copioso Innanzitutto grazie perché voi ovviamente siete davvero il quarto giudice in campo, no? E dirò chi è stata la più votata dal pubblico a casa Quindi quella che automaticamente andrà avanti Senza bisogno del suo tutor La più votata dal pubblico a casa Che va avanti automaticamente è La numero 5, Alice Sabatini Miss Lazio Brava Alice, vedo che alle prove non c'eri mai Ecco, vedi che le cose cambiano E adesso io vado lì, posso andare via? No, adesso tu devi staccare 5 biglietti Perché affinché queste ragazze salgano sul carro del successo Ti è piaciuta? Grazie, mi è piaciuto molto Ma non mi aiuta, mi sento comunque in grande difficoltà Immagino Mi dispiace molto per le 5 ragazze che non passeranno Sono un paio di giorni che cerco qualche frase fatta Ma non mi viene Così come vi ho chiesto di non dire di essere ragazze isolari E di volere la pace nel mondo Non inventerò frasi per addolcire la pillola Mi dispiace molto Perché siete state tutte molto belle e brave Anche per quello che avete fatto E quindi vi voglio bene E mi piacerebbe molto che passasse il turno e andasse avanti La numero 7, Giuliana Ferraz Miss Lombardia, Giuliana Ferraz, numero 7 Complimenti Giuliana E poi vorrei che andasse avanti Anche Anita Roncari, la numero 1 Numero 1 Anitta Roncari, Miss Equilibra Lombardia Beh, insomma, da romano sei molto magnanimo con le Lombarde Non sto assolutamente guardando la provenienza Ci mancherebbe Mi sento male, vorrei avere un malore in modo che mi portano via E non devo continuare questa cosa Non dire così, eh Poi magari mi viene Tiro sulle mani Così Non do adito Mi farebbe anche molto piacere Che passasse Ginevra Bertolani, la numero 10 Numero 10 Ginevra Bertolani, Miss Chia Toscana Brava Ginevra Mamma mia, che brutta cosa che mi fate fare Mancano due biglietti, eh? Sì, e passa la numero 6 Manuela Galizzo Miss Sardegna, Manuela Galizzo Ragazzi, mi dispiace Ne manca una Mi dispiace Insomma Stasera divertitevi dopo Andiamo a bere il 12 birre insieme Quello che faranno lo sappiamo noi Vabbè, io gli dico, do dei consigli Andate a partire E passa anche Elisa Muriale, la numero 8 Numero 8 Miss Piemonte Elisa Muriale Elisa, prego